Chiede di parlare l'onorevole Dadone. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Solo per aggiungere il rispetto a quanto è stato lungamente detto stamattina in discussione generale che, se perlomeno si devono fare dei controlli per quest'anno, con questo emendamento tentiamo di prorogare il termine di scadenza dal 15 luglio al 15 dicembre 2015 per l'anno in corso, in maniera che questa Commissione, che verifica la trasparenza e i rendiconti, i bilanci dei partiti, possa effettivamente farlo, visto che già vi siete fatti il condono per i tre anni precedenti, quantomeno fingiamo di fargli fare, dargli la possibilità di controllare per l'anno in corso, perché altrimenti veramente si tratta di un furto. Grazie. Grazie. Metto in votazione l'emendamento 1.53 Dadone, parere contrario di Commissione. Il Governo è aperta la votazione. Ci siamo. Non vedo altri. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.55 D'Ambrosio. Applausio. Rambostio. Triありがとうございました. �